Presentiamo oggi, è una legge per la dignità, o meglio per restituire la dignità a chi si è visto da un giorno all'altro privato del sostegno, anche quello più elementare. Parliamo di cifre che stanno intorno ai 500 euro al mese, quindi sicuramente non fanno diventare ricchi, ma sostengono una famiglia anche soltanto per il pagamento dell'affitto di casa. Questa proposta di legge è stata già presentata qui in Consiglio con un apporto di 5.000 firme, quindi una petizione popolare, e purtroppo è stata assolutamente ignorata. Il Consiglio regionale e i consiglieri, quando non vogliono affrontare le cose, le ignorano, non hanno neanche la forza e la capacità di opporsi. Io mi auguro vivamente che intorno a questa legge, che ha la possibilità di essere emendata, corretta, da tutte le forze politiche, ci sia quella unione di intenti, quella stessa che si utilizza quando si è in campagna elettorale. Non facciamo finta di fare, ma facciamo.